E in questo martedì 10 dicembre qui a Serifesta dei graditissimi ospiti abbiamo Lara Agostini e la sua orchestra Ecco qui abbiamo Adamo che la rappresenta diciamo Ciao Serena, ciao Serifesta, buongiorno a tutti Ciao ragazzi, bentornati, è passato un anno quando siamo venuti qua, vi ricordate? Eh sì, ci pensavamo prima, quasi un anno Quasi un anno, siete tanto bellissimi oggi, tutti eleganti Dovevamo venire a Serifesta Eh beh, è minimo Volevamo vestirci in maniera romantica Grazie, mio onore Per restare in tema con la presentatrice del programma, romanticissima Romanticismo sempre comunque Cara Lara, tutta modello savana invece Cosa ci racconti? Diciamo il nome giusto dell'orchestra perché non sbagliamoci vai Lara Agostini L'orchestra spettacolo, va beh insomma l'orchestra perché ovviamente No perché sul borderocci metti mezz'ora per scriverlo, hai di stare attenta quest'estate E faremo il possibile, comunque Lara Agostini i manifesti sono già pronti, insomma alcuni già ce li hanno e quindi questo è il nuovo nome Non è cambiato assolutamente niente perché siamo sempre gli stessi Però io voglio una richiesta, voglio il faccione di Adamo sul furgone Eh non c'è, non c'è, perché non ti mettono mai? Non ci sta nel furgone il mio faccione E perché invece vicino a Lara staresti molto bene? No 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 Niente non vuoi? Però Agostini è il mio cognome Dunque hai visto? Hai visto? C'è un mix C'è il barbatrucco C'è il barbatrucco Lara Agostini Bello bello, ma quanto l'avete studiata sta cosa poi? Non lo so, forse è nata così Dopo due minuti sì Dopo due minuti è nata così, comunque il nostro spettacolo nuovo magari tu l'hai già visto, sei stata tra le prime Comunque il nostro spettacolo nuovo appunto è quello che vi racconteremo tra poco Esatto, innanzitutto lo raccontiamo tra pochissimo, innanzitutto diciamo che il vostro video gelosissima sta rispotendo un grandissimo successo Oh ci fa piacere, ringraziamo il regista, ringraziamo il regista, ha fatto un ottimo lavoro Eh sì sì sì, anche una bella troupe di personaggi Tutti i coordinatori Eh grazie, grazie, grazie Molto romantici Una bellissima esperienza Girato a Verona Che è una città romantica Abbiamo cercato disperatamente il balcone di Romeo e Giulietta ma poi abbiamo capito che Era chiuso Era chiuso, allora ci siamo arrangiati in altro modo Però è riuscito un bel lavoro Sì, salutiamo anche le nostre ballerine, Michele, tutto E li ringraziamo Tutti i protagonisti del nostro videoclip Bravi Bravi, bravissime anche voi Ma diciamo proprio queste novità che è dell'orchestra spettacolo Dunque quest'estate cosa dobbiamo aspettarci? Cara Lara Cara Damo Allora beh, un piccolo anticipo già c'è stato lo scorso anno A parte la struttura che noi ogni anno rinnoviamo Sai che così Molte feste appunto ci tengono alla struttura Quindi noi abbiamo sempre avuto un occhio particolare E la cosa così che caratterizzerà il nostro spettacolo di quest'anno è un corpo di ballo Perché i suoi uomini con le minigonne E vai Finalmente Questa è un'innovazione veramente Potrebbe essere una bella novità No, alcuni appunto le hanno già viste Le nostre ballerine Che comunque animeranno tutte le nostre serate Sia nei balli di gruppo che hanno lo spettacolo in pista E quindi diversi cambi d'abito Musica e spettacolo in abbinamento Sarai accompagnata dalle tue ballerine Dal tuo corpo di ballo ufficiale Ufficiale, certo Naturalmente sempre dai miei classici Ma certo I nostri Istancabili musicisti Le colonne portanti dell'orchestra Di Dio Adamo E' veramente istancabili Vogliamo approfittare Adamo per salutare i vostri numerosissimi fans Che ci scrivono Li salutiamo Io li saluto con un bacio Solo le donne Solo le donne E mentre Lara solo gli uomini Io saluto tutti gli uomini Tra l'altro nella zona di Verona Grazie all'Agenzia Carletti Abbiamo conosciuto tantissimi amici Tantissime feste Che ci riconfermano da anni e anni e anni Adesso non li sto a citare tutti Altrimenti ti dimentichi proprio di uno Quello, esatto E quindi mi raccomando Li salutiamo tutti calorosamente Perché ci hanno sempre dimostrato un affetto Veramente grande Grande, grande, grande Un bacione a tutti Bene ragazzi A tutta la gente di cuore Beh, la gente di cuore mi ricorda qualcosa Mi ricorda, chissà, chissà E ragazzi so che oggi ci fate sentire un bellissimo brano Un successone di Albano Dico giusto? No No, dico sbagliato Di Bocelli Di Bocelli, ecco vedi Mi ricordavo una grande voce ma ecco Confuso un attimo E non sarebbe male neanche Albano No, infatti però Sì è un brano che tra l'altro proponiamo spesso Nello spettacolo estivo in pista Perché ci viene sempre richiesto E quindi abbiamo pensato oggi di riproporlo qui a Serifesta Bene, allora lo vediamo tra poco dopo la pubblicità Io intanto ragazzi vi ringrazio E vi aspetto anche per l'anno nuovo Dopo la pubblicità sicuramente Però anche per tornare qui a Serifesta Magari con tutta l'orchestra ci stiamo Adesso ci stiamo Allora io proponevo per il regista le ballerine Però se tu dici meglio i ragazzi dell'orchestra Facciamo una volta uno una volta l'altra Va bene dai d'accordo d'accordo A tra pochissimo qui con noi Dara e D'Amo